Musica Ben ritrovati, buona serata Brum 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 brum, siamo pronti Vladimiro Tallini Clara Vercelli Siamo pronti per questa nuova puntata Di Full Optional Automobilisti in diretta Anche motociclisti Anche pedoni Perché come sempre ricordiamo Siamo tutto un po' Cambiamo il cappello e siamo pedoni Cambiamo il cappello e siamo ciclisti Cambiamo il cappello e siamo automobilisti E quindi Aspetta, aspetta, posso fare una cosa Roby rischiaccia il bottoncino perché c'era 1, 2, 3, rischiate il bottoncino No, quasi comunicazione interna E' bello, queste sono le comunicazioni che si vivono durante una diretta Lo vedevo che era lì, insomma era un po' preoccupato Ecco qua che siamo apparsi A posto 011 95 74 522 Il numero telefonico per far intervenire voi Per parlare di come siete come automobilisti Esatto Di come siete come automobilisti Oramai stiamo cercando di indagare E questa sera lo faremo ancora di più Sai che ci sono quelli che viaggiano con il telefonino Insomma che si distraggono Che insomma fanno lunghissimi viaggi Ah ma tanto io lavoro la sera Però torno sempre a casa Tutti così dicono Sempre tutti Tutti così dicono Ma diamo una mica Ma l'automobile mostra quella che è la nostra identità Vero dottoressa Rita Caggeggi? Sì sicuramente Eccola qua Ben arrivata in diretta Lei è una delle protagoniste della trasmissione Area Goal Che vi non da tutti venerdì sera Supermantenna alle 21.30 E cura una rubrica all'interno della trasmissione La sua psicologica E questa sera invece insomma ci avverremo della tua professionalità Proprio per parlare invece di questo argomento Quindi l'automobile che mostra quella che è la nostra identità Vedremo in quale forma Certo tantissime forme E poi vogliamo sapere anche che automobilista è La nostra S.C. Gheggi E poi abbiamo figlia di un Gheggi Ne pensa un po' Salutiamo Davide Visconti Buonasera Vocalist Ecco Che automobilista sei? Ma io sono un automobilista un po' distratto A me piace quando guido guardare un po' il panorama E la macchina va da sola No, no, sto attento Però essendo abituato a guidare molto anche di notte Perché lavorando poi di notte Di notte bisogna fare attenzione Sì, ma io in realtà sono attento Però a volte magari quando viaggio per piacere Mettiamola così Mi piace anche osservare il panorama Perché io sono Allora potresti fare una cosa Non andare a me da solo Non fai guidare un'altra persona E tu guarda il panorama No, quando non lavora Quando viaggio per piacere Ma non sono Difficilmente Però per piacere sono da solo Quindi Non sei da solo No, quando viaggio per piacere A maggior ragione E quando lavoro Non guidare E vabbè Ma quando lavori Non guardi il panorama Dai, appunto Sì, però viaggiando Ti capita i lunghi viaggi Di stare Guarda quella bella collina Guarda quel bell'alberello Oh, ma il laghetto da questa parte E la strada che lavaggi Qui nel telefono devo rispondere Va bene Adesso si scherza No, no, no Se posso il telefono Mentre guido lo evito Bene Quello sì Se posso Però Con fietta al limite Sì Piuttosto la cuffietta Dai Vabbè D'accordo Poi ci sono quelle persone invece Che sanno che tu sei alla guida E ti chiamano Ah sì E ti distraggono Mi è successo una mattina presto Mentre venivo in televisione A un certo punto Una mia amica E non faccio nomi C'era con me Mentre ero Mentre ero in viaggio Non ho fatto nomi Mentre ero in viaggio Facciamo così Fa squillare il telefono E tu a un certo punto Devi anche così rispondere Ma tu sei sempre Molto attento O hai l'auricolare Oppure il viva voce Io ho il bluetooth in macchina Ma io questo lo so Quello che è successo Che quella mattina Non ce l'avevo L'auricolare Il bluetooth in macchina Non si è attivato Non rispondere quando è così Scusa Mi pazienza Senti insomma Vabbè Detto questo Noi condividiamo anche Queste nostre cose Con voi Caro pubblico 320-567-2294 Così almeno abbiamo anche la possibilità Di sapere da parte vostra Come siete Come automobilisti Anche perché andiamo un po' Ad indagare Sui vari atteggiamenti in macchina Perché appunto L'auto ci rappresenta Anche il modo di guida ci rappresenta Soprattutto Soprattutto il modo E anche il tipo di vettura Che scegliamo Anche la vettura che scegliamo Ovvio Perché io in una nota Della dottoressa Caggeggi Ho letto Che l'auto può essere Un iperinvestimento fallico Esatto Come fallico È un iperinvestimento Detto alla freudiana In realtà La macchina rappresenta Il fallo Fallo La virilità L'aspetto virile Per l'uomo Sì ma attenzione Perché ci sono anche Delle donne falliche E soprattutto Nella società attuale Cosa vuol dire Essere una donna fallica Essere una donna Che vuole un po' Assomigliare Al tratto Di maschio Insomma L'aspetto di personalità Un po' più Mascolino Trasgressivo Potente Ma questo per entrare in competizioni O perché? Ma io penso che ormai veramente E questo lo vediamo anche nella guida Si siano sfumati un po' Certi ruoli Noi pensiamo anche solo al fatto Che non ci siano più le ombrelline Nella Formula 1 Sì Adesso al di là del discorso Delle molesti Eccetera eccetera Ma io penso che Siamo veramente oltre Perché le ombrelline Hanno lasciato l'ombrello E sono al volante Ormai comunque anche le donne Sono in grado di essere Delle ottime pilote E lì la forza fisica è relativa Perché come schiaccia un uomo Sull'acceleratore Può schiacciare una donna E quindi attenzione Perché comunque La società maschile Si sente un po' Spodestata In un certo senso Da questo ruolo Proprio perché? Perché la donna Sta emergendo Chiaramente Anche in molte attività Che sono Anche se siamo ancora In una società maschilista Ma penso che Chi maggiormente Patisce questo aspetto Per quel che mi riguarda Da quello che posso vedere Io nell'ambito Della mia esperienza Nelle sedute Con i pazienti È il mondo maschile Perché in realtà Per quanto si dia Largo spazio Agli uomini Vediamo nella carriera In molte situazioni L'uomo ha paura Di questa cosa qui E questo si riversa Anche sull'ambito Della sessualità Che non è il sesso Ma è un modo di essere È un modo di esprimersi E quindi È come un attacco Alla virilità Perché in realtà La macchina Sempre ha rappresentato L'aspetto virile Noi pensiamo ai bambini Certo Se io anche in studio Mi è capitato Di dare comunque Dei colori a un bambino A dire Disegnami una macchina Somministrando Di che colore? Ti disegnano E questo lo disse Anche Enzo Ferrari In un'intervista Ti disegnano Una Ferrari rossa Allora Cioè In realtà La Ferrari cosa rappresenta? Rappresenta la trasgressione L'adrenalina E il colore Il colore rosso Comunque legato alla passione Che è comunque tipica Comunque un road Nella strada Nella Formula 1 Ma attenzione Perché il rosso Rappresenta anche Il colore del sangue E quindi sono le emozioni No? La voglia comunque Di mordere Mordere la strada Che poi in realtà È un modo per Mettersi in gioco No? Voler vedere Fin dove ci si può spingersi E anche Anche un aspetto catartico Comunque E questo trovo Che ci sia Sia nell'uomo Tipicamente maschile Perché in realtà È un atteggiamento Da testosterone Ma anche le donne Hanno il testosterone E soprattutto Anche la donna Sì 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 Decisamente Insomma Dimmi che macchina hai Io ti dirò Che persona sei Sì sì La berlina ad esempio È il tipico tradizionalista No? La donna può Conoscere ad esempio Un uomo che la corteggia Osservando il tipo di vettura Che ha Ad esempio si dice Si dice ma È la ricerca No? Poi che ce la confermo C'è una dose di campioni Che rilevano questi dati Ad esempio Le persone che amano I fuoristrada Sono persone comunque Poco affidabili O comunque che amano Relazioni un po' Trasgressive No? Di quelle per cui Ci si debba arrampicare In un certo senso Sono le macchine comode Ecco Ecco E quindi è un altro target Quello è un altro target E i famosi SUV Che è ormai Il SUV Sono i narcisi della strada Anche quando non serve No? Hai la macchina grande e grossa Guarda Adesso chiediamo A Davide che macchina hai No? Così ci togliamo anche In questo caso il pensiero E sappiamo che abbiamo già fatto Una bella figuraccia Se la macchina Non è colpa nostra Insomma Io ho una macchina Che è tipicamente femminile Che è una Lancia Y Che è una macchina Che è tipicamente femminile Ha detto che sei affidabile La dottoressa Caggeggi Ha detto lui è affidabile Ma io l'ho sempre È affidabile? Sì 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 Ma in realtà Allora Le berline è un po' tipo Io ho cambiato Adesso si mette sotto esame Avevo la sorellina Avevo la sorellina Sino che non mi ha lasciato a piedi La musa E ne ho cambiate cinque Sempre musa le ho prese Cambiavo solamente colori Però ne ho cambiate cinque Sei il maccio tenero Perché ti spiego Adesso Il mercato Questo è il mercato Dell'auto Il maccio tenero mi piace È il maccio tenero Adesso te la spiego Qual è Sì grazie Allora Comunque c'è un mercato Ok A un certo punto Noi sappiamo che gli psicologi Che si occupano comunque Del marketing Di queste cose Cercano di capire E di comunicare alle aziende Quali sono le esigenze Ci sono anche le esigenze Ad esempio Il target familiare Adesso la parte del maccio Che deve andare a far vedere La propria virilità E quindi hai bisogno Di una monovolume Quindi creiamo la monovolume Con i seggiolini Oppure la macchina Appunto comoda Familiare Per andare a far la spesa E quindi ti mandano L'immagine appunto Non più del maschio virile Al di là che uno lo sia Comunque Comunque il maccio tenero Con la moglie carina I bambini a bordo E allora tutti vanno a comprarsi Poi la monovolume Dalla quale si sentono rappresentati Perché in realtà Come ha detto appunto Clara L'automobile comunque È una qualcosa Che ti rappresenta Rappresenta la tua personalità E così Torniamo ai SUV I SUV sono i classici Narcisi della strada Ho cambiato più un SUV io Eh sì Perché comunque Ti guardo dall'alto No non è vero Adesso in una società Di tipo individualista Scusate non è vero Che viene utilizzato Anche quando non serve Ad avere una macchina Così grande e grossa Ma cosa stai dicendo Dico quello che ho fatto La macchina deve essere La macchina è una comodità Io vorrei Comprare una smartina Io vorrei comprare una smartina Ma con gli spostamenti Che faccio Con la macchina Che è piena Insomma riempio sempre La smart Insomma mi va bene Solamente per portare Lo zaino E basta Ecco E questo Però vorrei Quella ma per esigenza Io credo che molte volte Le macchine Sia un'esigenza Sì ma ad esempio Con una smart Una smart Abbiamo detto Ti dirò chi sei In base alla macchina Che scegli No Se uno è alcolizzato Fuori di testa Con disturbi di personalità Va bene Qualsiasi macchina Anche una smart Va bene Va bene Qualsiasi cosa Allora noi abbiamo Intervistato tante persone Ecco E lì Si scoprono Veramente Le manie Vere e proprie manie Vere e proprie manie Ecco Non so se possiamo Vediamo un pochettino Se il nostro Franco Ce le può mandare Vediamo che cosa dicono Guidi Niente Non sei un'automobilista No Non ti piace guidare Non ho la patente Come mai la scelta Senza patente Perché maggiore ne lo sei Sì sì Ho vent'anni Però niente patente Non ce l'ho ancora Ma hai intenzione di prenderla Sì Però tu sei un autista Sei insomma Sei uno un passeggero Sei uno di quelli Che si fa scarrozzare abbastanza Esattamente Quando sei sulle macchine Degli altri Come sei come passeggero Ti capita di mangiare Di aprirti il pacchetto Di patatine Crackers Perché ho scoperto Che c'è gente Veramente patita Che assolutamente Non bisogna fare nulla All'interno dell'auto Io sono tranquillo Allora Torniamo A Milcare Scrive Intanto dobbiamo conoscere Altri amici Vediamo un pochettino Di scoprire Tra i tanti sondaggi Se c'è l'automobilista Perché ne abbiamo sentito Uno spider alfa Verde Vecchio di vent'anni Odio i SUV Tedeschi Che tipo sono? Già dal nome però A Milcare Buona serata Secondo me è un tipo Un po' anziano Sì però anziano Io l'immagino Scusa Scusa A Milcare Anziano Lo immagino Secondo me no Sai Io invece lo immagino anziano Secondo me no Potempato Sicuramente un tradizionalista Non sarà un ragazzino Ma Però ha una macchina Scusa Uno spider Spider alfa vecchio Di vent'anni Una macchina stilosa Ah beh sì certo Quella elegante Dici un appassionato Davide Può essere un appassionato Collezionista Un collezionista Guarda che noi stiamo veramente analizzando Insomma i nostri I nostri I nostri spettatori Attraverso la vettura Che hanno Che hanno scelto Esatto Esatto E che guidano Allora vediamo un po' se Possiamo nei tanti sondaggi Riuscire a trovare Quel qualcuno Che ci racconta Ciò che noi aspettiamo In puntata Vediamo Che automobilista sei? Ci tieni all'auto? Che auto? No ci tieni alla tua macchina? Sì sì Mi piace Sei uno di quelli che la pulisce sempre Che fa attenzione? Sì 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 Sono così E quando sei alla guida come sei? Tranquillo Non mi piace guidare veloce Vado E se devo andare veloce sì Però Sempre nel posto giusto Diciamo Insomma E quando trovi davanti Quelli che vanno piano piano Che non camminano? No non mi disturbo per niente Io sono di un paesino piccolo Assicché Quando vengo un po' qua Un po' intranquillo No però Insomma il paesino piccolo Si vive bene Perché poi Sì sì Più tranquillità Più rilasciato Cambio qua La gente è un po' nervosa Ma tu dici che l'automobilista In città è nervoso? Sì sì Suona tanto il clazzo In cambio noi Non lo facciamo Perché tu sei uno di quelli Che va tranquillo tranquillo In macchina Sì sì Aspetti i limiti Insomma Sì sì E ti capita di sentire qualcuno Dietro che suona? Eh Succede Grazie mille No per favore Grazie a te E questo signore È un personaggio Che sa controllare Sì insomma La guida Tranquillo È uno che è in grado Di gestire le proprie emozioni Perché in realtà Il discorso è la personalità Se sei una persona di tuo Che comunque sei un impulsivo Non sai gestire Sei così sulla strada Sei così online Sei così nelle relazioni dirette Cioè non è che Entrando in macchina Ti trasformi Sei sempre te stesso Quindi la capacità Come ci si trasforma Un po' in macchina? Ma allora Diciamo che l'auto È un qualcosa Nella quale ti senti protetto No? Quindi questo abitacolo Questa cosa che ti crea La distanza dalle persone No? Quindi è come se uno Avesse una sorta di corazza Sì Però in realtà Sei sempre tu Poi magari hai È ovvio che Allora noi pensiamo Alla gestione dello stress Siamo in una situazione In un tale In questo momento Con un traffico incredibile Per cui è impossibile Che le persone Non si arrabbino No? Anzi magari è patologico Se qualcuno rimane tranquillo Cioè è strano Non ho una personalità Troppo pacata De sta anche preoccupazione Però è ovvio Che anche la gestione Della rabbia Ha le sue gradazioni No? Allora un discorso È incavolarmi Di fronte a uno Che non va avanti Di dire Ma insomma muoviti No? Magari imprecare Tra sé e sé Un'altra cosa È scendere E gonfiarlo di pugni No? Sappiamo che Comunque diventa È già tutto un altro discorso Però in realtà Dipende dalla capacità Che hai Ma infatti gli studi Che sono stati fatti Anche il discorso Della psicologia Degli automobilisti E alla fine I professionisti Ci si è domandati Va bene Dobbiamo parlare Di psicologia Dell'automobilista Ma il problema qual è? La gestione Dell'aggressività La gestione Della rabbia La capacità Di contenersi E attenzione Perché c'è anche Un altro aspetto Importante Che è la capacità Di saper cogliere I segnali Dall'altro Anche dal tuo abitacolo Perché? Perché comunque Uno dice È vero Devo fare attenzione Come guido io Ma devo cercare Di capire anche Come guidano gli altri Quindi avere questa capacità Un attimino Di provare anche Ad osservare A parte il paesaggio Magari chi ci guida Esatto Davide Chi ci guida a fianco Magari ovvio Non è che uno Non può interrogare La sfera Ma vedere Magari la persona Dici magari Guarda questo è distratto Ma che cosa sta facendo Pensare Immaginare Provare ad immaginare Che cosa l'altro Abbia in testa di fare Attraverso il linguaggio Del corpo Se uno si allena Ecco ad esempio Io cerco di allenarmi Molto sotto questo punto Di vista La guida Quindi sfrutto Quelle che sono Le abilità Della mia professione Diciamo Quindi mi arrabbio Anch'io ovviamente Però cerco di capire Un attimino Dove l'altro Vuole andare Perché l'automobilista è La dottoressa Kagegi Ma io sono Di là Dal fatto Sfruttare le capacità Della tua professione Ho una guida Molto decisa Mi piace guidare E un'altra cosa Io sono molto preventiva Cerco di evitare Le strade col traffico Quindi se posso evitare Le tangenziali Le evito Perché è una cosa Piuttosto a lunghi Piuttosto a lungo Me ne vado con calma Tranquilla Sì 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 Ad esempio No sono così comode Le tangenziali No ma tu considera Se io al mattino Devo andare in università Da fuori Torino Se prendo la tangenziale Non stamattina Avessi preso la tangenziale Alle otto e mezza del mattino No Arrivo all'università Alle undici Quando le lezioni sono finite Dovresti partire un attimo prima Ecco No però Allora siccome mi piace Anche dormire Allora cosa ho fatto Ho detto Mi faccio Stupinigi Strada del Castello Corso Unità d'Italia E ti assicuro Che anche partendo prima Io sono arrivata più tranquilla Benissimo Senza dovermi incolle Perché se prevenire È meglio che curare Stare a imbottigliarti Dietro le macche Quando sai che a quell'ora Poi ovvio C'è gente che non ne può fare a meno Esatto Non può che passare Per la tangenziale Però uno dovrebbe anche Imparare un po' di tratti Però è un percorso Che riesci a vivere In Non puoi nemmeno pensare Di dover partire Due ore prima Per saltare quel flusso Perché diventa veramente La tangenziale Bisogna solamente conoscerla Bisogna iniziare Ad attivare Un po' Un rapporto Con la tangenziale E sai Dove prenderla In quale momento E in quale orario Ma io la trovo monotona C'è Adriano che scrive Insomma C'è Adriano che ha una domanda Sono sufficientemente benestante Da poter comprare Un grosso SUV Ma mi vergognerei Preferisco girare Con la vecchia panda Quattro per quattro Cosa ne dice la dottoressa La psicologa Adriano Ognuno gira Con ciò che vuole Ovviamente E come abbiamo detto Se si è comprato Un SUV No non si è comprato Può Potrebbe 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 Ma non si vergogna Potrei Ma mi vergognerei Utilizzare una macchina Così Bisognerebbe capire Perché si vergogna Però Secondo me Perché non gli piacciono Poter comprare Un SUV Mi vergognerei Preferisco girare Con una vecchia panda Bisognerebbe capire Perché si vergogna Però Ovviamente Adriano ci Dica perché Ha un problema psicologico Allora il nostro Telespeciatore Deve essere necessariamente Un problema Voglio dire Magari non si rispecchia Nell'auto Quel tipo di auto Si rispecchia di più Nella panda Quattro per qua Sicuramente Se non comprava l'auto Senza problemi Bisognerebbe capire Perché si vergogna Se non si sente All'altezza Se non si sente sicura La guida Di un SUV Ci possono essere Tante motivazioni Si vergogna Perché Esatto Ci sarà una motivazione Motivazione Allora Forse perché Ce l'hanno in tanti Forse perché La macchina Che va di moda Forse perché Non gli piace Come dice Davide Non si riconosce Perché l'ha sottolineato Io mi chiedo Per quale motivazione Scrivere Sono sufficientemente Benestante Da poter comprare Un grosso SUV Qua si vuole vantare Insomma Già nel suo messaggio Secondo me non è così Io ho i soldi Io sto bene Però ti faccio vedere Che non Insomma Che sono una persona normale Ma perché non mi piace Quel tipo di vantura Io penso che sia così Ma adesso Non sono uno psicologo Non possiamo generalizzare Non possiamo generalizzare Ragazzi Non possiamo Però l'ha scritto lui Il messaggio Scrivendo Ci spiegherà Se vuole anche Chi spiegherà Come mai si vergogna Esatto Così che Lo stiamo noi A dare le varie interpretazioni Un altro aspetto È quello della Come dire Maniacalità All'interno Della Della vettura C'è chi Non ti fa mangiare Manco una caramella Le patatine Le patatine Poi men che meno C'è chi addirittura Ma le abbiamo proprio sentiti Sì sì Le abbiamo anche ospiti qui Che prima di fare Il passeggero Prima di appoggiare I piedi sul tappetino Sì Non dico dovrebbe togliersi Quasi le scarpe Metterle in un sacchetto E poi entrare Ma poco ci manca Ma non è molto differente No? Da quelle personalità Che devono andare sempre A lavarsi le mani No? Che si tengono sempre Le scarpe luci Uno può avere Una tendenza Senza necessariamente Dover essere una patologia Comunque un po' Sessiva compulsiva Però è ovvio Per quello che mi riguarda Che le mie esperienze Anche questi tipi di racconti Rientrano poi In quelle personalità Un po' Sessive Compulsive Maniacali Che sono fissate Estetici no? Perché poi c'è anche Questo target Di popolazione Adriano ha scritto Understatement E quindi vai Io mi ricordo Che la mia 4x4 Salivo sulle montagne Ed è stata l'unica macchina Che non mi ha mai creato problemi L'unica Davide sta raccogliendo Tutto quello che Sì è vero lo stavo guardando Ogni tanto Eh sì perché No non sono d'accordo Assomiglia un po' di bala No non è vero Prova a fare Assomiglia Prova a fare la maschera Ha ragione Guarda Ha ragione Lo utilizzo per le psicologiche Si ha trovato un altro lavoro Faccio il sosia di di bala Dai il sosia di di bala No comunque Io non sono particolarmente maniacale Forse troppo poco Perché la mia macchina Non è particolarmente Curata all'interno Però mi arrabbio Se chi viene nella mia macchina Poi la usa proprio come un cassonetto Diciamo Perché no Così non va bene Però Chi è che usa la macchina come un cassonetto Se vieni nella mia Trovi anche I sacchetti per buttare Trovi veramente di tutto Però Così no Però ti lascia magari la carta Mangiare in macchina Le briciole Poi comunque Se deve venire qualcun altro È fastidioso Ma non sono uno Che è sempre lì a pulire la macchiolina Questo Quest'altro Non ne ho neanche proprio voglia di farlo Quindi Non sono motivato Però la cura invece come dire Tecnica Sì Sì Beh quello sì Il controllo dell'olio Ma quelle cose sono cose Che le devi comunque fare Perché se vuoi avere un mezzo Che ti porta più A lungo possibile Sono comunque quelle due cose Che non è necessario andare dal meccanico A farle A fare assistenza Le puoi fare tu Non è un grosso problema Ma poi ci sono molte donne Che ultimamente Lo fanno più Degli uomini Conosco coppie Che Ma io Non me ne intendo di motori Fa tutto mia moglie Grazie Complimenti Però appunto Una caratteristica È proprio quella Che l'uomo rispetta la donna Deve sentire la macchina Di solito quando parli con un uomo di motori Senti il motore Senti il carburatore Quindi la sensazione di dover sentire Mentre le donne Ci sono sicuramente Adesso donne molto più preparate Scafate in questa cosa Però è più un aspetto di Maschile Comodità La porla Magari Io ad esempio sono una di quelle Che si dimentica Magari di fare Il cambio olio Ho anche fuso una macchina Anni fa Però Quello può capitare Abbiamo scoperto l'assetto Quello può capitare Quindi ho questo aspetto No può capitare Però nel senso L'uomo Quando dice può capitare Chiedo scusa dottoressa Perché è capitato a lui Quindi lui giustifica Quando è capitato a lui qualcosa Giustifica tutto Quando non capita a lui Non è capitato a lui Allora si incapponisce È così Però è più delle donne L'uomo deve sentire E dice Ma non senti A volte ci sono questi mariti Che si arrabbiano con le moglie Ma non ti sei resa conto Perché c'è proprio L'aspetto della sensazione Come della strada Sentire proprio le ruote Su strada Obiettivamente Comunque Anche se c'è questo Aumento delle donne Al volante Che sanno guidare Più come uomini In maniera più maschile Diciamo Però A me capita di sentire Tante La maggior parte Donne Che si sentono insicure Ansiosi Al volante Donne che addirittura Temono Di prendere la macchina Cosa Che però Non ho mai visto Verificarsi In uomini Se se è maschile Non mi è mai capitato Io invece conosco Proprio chi Adulto Che non ha mai Preso la patente E poi invece ho un ospite Del mattino Che lui per venire In trasmissione Paga un autista Perché lui dice Io in tangenziale Dopo aver vissuto Le brutte esperienze Della tangenziale Perché vado piano Non le voglio ripetere Pago una persona Che mi accompagni Dobbiamo andare In pubblicità In pubblicità Esatto Ci vediamo tra poco Tra poco Non è vero? Ah no Ci dicono È una finta Il timer Allora è sbagliato Possiamo ancora stare insieme Abbiamo ancora tre minuti Intanto ricordiamo 320-567-2294 Per i messaggi Che è stato ovviamente Mandando Perché ce ne sono tantissimi Dopo voglio fare una cosa Però Vorrei ritornare Questo lo dico in regia Ma lo facciamo Al rientro della pubblicità dopo Vorrei andare a cercare Uno dei messaggi Che abbiamo Insomma Uno dei Degli intervistati Di un po' di tempo fa Che era veramente Molto maniacale Che nella sua macchina Non si poteva fare Assolutamente nulla A me ha colpito moltissimo Magari anche nella sua casa Perché poi Ah perché insomma Quello che fai in macchina Lo fai anche a casa Proprio di sì Comunque lì C'è qualcosa Una cosa In caso di me Non è disordinata Come la macchina Però magari ci può essere Uno spazio Ci può essere Quando hai una personalità Maniacale Così E perché comunque Ce l'hai un po' In tutte le cose Poi è vero che magari Tralasci delle cose Però quello È l'impeto E come Come la mettiamo invece Con le donne Che in casa sono maniacali E invece la macchina È proprio l'opposto Mentre cosa che succede Al contrario Gli uomini in casa Particolarmente poco attenti In macchina Attentissima Un gioiello Questo perché siamo ancora In una società maschilista In cui le donne Si identificano più che poi Non tutte Attenzione Con la casa E l'uomo si identifica Con la macchina Quindi il mio compito È quello di curare la macchina Io sono colui che conduce E la doll Che poi Anche lì nella casa Dipende Ci sono donne E ci sono donne Donne Sì è vero Sì infatti Non siamo forse Proprio È vero che siamo forse Ancora in una società Maschilista Ancora Ci sono Però Dici Dico 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 Curiosità Curiosità Ad esempio Il discorso Che dice delle donne Che hanno paura Adesso mi ho trovato Anche molti uomini Ad esempio Ho un paziente Che ha gli attacchi di panico Quando passa nelle gallerie Quindi lui ha delle difficoltà Che diventa comunque Veramente un problema Perché se devi passare Devi comunque raggiungere Una località Devi passare per forza Dalle gallerie Potrebbe fare come fa La dottoressa Calgeggi Che fa i giri lunghi Per non prendere la galleria No lui quando arriva Mi fa morire Perché lui quando arriva Allora va tranquillo Perché è uno molto pacato Fa poi a un certo punto Quando imbocca la galleria Comincia ad urlare E si fa tutta la galleria Correndo Cioè di corsa Tutta velocità E scarica la tensione Ma urlando In macchina Con attacco di panico Sì E poi esce dalla galleria E urla per tutto il tempo E adesso stiamo lavorando Comunque su questa cosa No io sto immaginando La macchina è vicino Ma infatti ho riso con lui Adesso è il momento Della pubblicità Adesso c'è Andiamo in pausa Tra poco torniamo insieme Non è che ci stanno tutti Attaccati in galleria E di guarda Ti ascolta Io guardo Beh io sono Vado veloce Non solo in macchina Anche tra uno studio E l'altro Allora 320-567-2294 Questo è il numero Al quale voi potete inviare I vostri messaggi Ma potete anche telefonarci Al numero 011-957-4522 Irene scrive Io ho una smart Che tipo di donna sarei? Ma comunque una donna comoda Sicuramente Che non vuole invadere Troppo Non è sicuramente una persona invadente Perché ad esempio Anche la grandezza del veicolo Trasmette il tipo di personalità Ma anche la donna vuole apparire Come l'uomo con la macchina? Sì 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 Sicuramente Però è comunque Già un apparire diverso Per la donna La macchina è più qualcosa di utile Che ti serve Beh comunque Infatti di solito Le macchine delle donne Sono disordinate In realtà Più di quelle degli uomini Vi vorrei far vedere Il mio bagagliaio Eh Mi immagino Lasciamo stare Allora Invece Ascoltiamo con attenzione Questo amico Che ha parlato con noi Già un po' di tempo fa Ecco Però secondo me Da prendere veramente spunti Dottoressa Caggia G Ma anche spunti Del mio bagagliaio Sì Va bene Com'è il tuo bagagliaio? Posso andarlo a vedere? Posso andare fuori? Allora Dopo vado un attimo fuori Non lo dico in regia Vado ad aprire la macchina Di Clara Vercelli Guardiamo il sondaggio Non apriera la mia Vado ad aprire la tua macchina Ti tieni all'auto? Tengo tantissimo la mia auto Diciamo la mia seconda donna Com'è la seconda donna? Spiegamela un attimo Che cosa significa? Pulita Sempre pulita La coccolo La metto al caldo la sera E ci tengo tantissimo La metti al caldo Questo Tassativo Non può stare fuori Non può prendere neve Non può prendere pioggia Non si può mangiare dentro l'auto Tu durante i viaggi Non fai mangiare? Ci si ferma Ci si ferma in autogrill Se uno volesse mangiare Che non so Un pacchettino di cracker? Non si può Non si può Nella mia auto no Ma sei sempre stato così? Sempre Sempre Anche un nome Anche un nome Questa tua auto? No L'hai battezzata in qualche modo? La mia seconda donna Ti ripeto La mia seconda donna Come ti è nata questa passione? Insomma Poi anche questo essere troppo Che così apprezzivo Nei confronti dell'auto Troppo Difatti le mie figlie Non mi sopportano Tant'è che Quando piove Vado in garage La devo asciugare Togli tutte le goccioline? Sì 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 Deve essere sempre brillante E se qualcuno te la toccasse Mentre Ogni tanto la posteggerai fuori La tua auto? Eh sì ma Guarda Tutte le sere la controllo Faccio il giro Sì credo Sono un malato Malato della mia macchina E tua moglie cosa dice? Oramai si è adeguato Dopo 18 anni di matrimonio Si è adeguata Scusami E le bimbe Per farle mangiare all'interno Nulla? No nulla Mangiano fuori Anche il gelato Lo mangiano fuori Finiscono il gelato Salgono in macchina Tu quando sei alla guida Come sei? No sono prudente Sono prudente Anzi Faccio tantissima attenzione Anche a chi mi sta vicino Ma questo è perché Non ti devono rovinare la macchina Perché non mi devono rovinare la macchina Esatto Sì 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 L'obiettivo è quello Non far toccare la macchina Sì ma Sei uno che rispetta i limiti Che Nella norma Nella norma Nella norma Nella capo dai Da sempre così Dalla tua prima macchina Tu sei stato sempre così Anche la prima auto Che era di seconda mano Era quello che il sabato Andava a lavarla Ogni quanto la vai a lavare l'auto? E la media è una volta Ogni 15 giorni E la spiro una volta a settimana Non esagero? Non esagero Tu sei realmente così? Sì 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 Confermo Ma anche in casa sei così? Oppure solamente? Abbastanza Anche a casa Anche a casa Un po' patito di ai mare Patito Patito Ecco Due giorni di riposo A casa pulisco Pulisco è vero? La macchina oppure la casa? Entrambi Entrambi Sono un patito Patito della pulizia E in macchina si può fumare? No no Non fumo Tassativo no Portacenere Quando vendo l'auto Il portacenere è libato I tuoi amici vogliono salire sulla tua macchina? Sì 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 Fa piacere È profumata La macchina hai? No Sportage La Kia Bella comoda Famigliata Sì 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 Sai che ci si può mangiare bene anche dentro? No Assolutamente no Assolutamente no Pago piuttosto la pizza Grazie No Scusa Non vedevo per una serie di cose Che intanto sono accadute in studio Ma guardavo anche l'espressione Della attoressa Kageji Che seguiva appunto Con attenzione Con attenzione E con un caso grave? Insomma c'è un iper investimento Della virilità Cioè non le basta la donna Anche la macchina rappresenta l'amante Quindi mi sembra L'amante? Rappresenta l'amante Come se fosse la seconda donna Quindi la cura La tiene in garage La controlla però Quindi un uomo molto controllante Nell'ambito delle relazioni Quindi la controllo Che nessuno ci mangi dentro E faccio entrare chi voglio io Insomma Comunque questo iper investimento A livello di virilità E chiaramente l'immagine Bisogna sempre pulirla Bisogna curarla Quindi il prendersi cura Ed è giusto? Sì sì Sotto Fino a un certo punto Esagerato? Si esagerà Sembra un po' E con una persona così Lo sarà anche a casa Eh? Una persona Ma non è detto Come abbiamo detto L'uomo tende maggiormente A curare la macchina No? Sono le donne magari Che tendono maggiormente A curare altro No? Quindi il trucco Noi pensiamo Nei donne Ci alziamo al mattino No? Pensi al trucco Pensi più a questi aspetti L'uomo Anche l'uomo Perché comunque è pieno Di narcisisti Lo sappiamo Però per l'uomo È anche importante La macchina Il mostrare la macchina No? Quindi la macchina Rappresenta un aspetto di sé E della cura Che ha di se stesso Quello scusate Prego È alla coda Dell'amico Che ha intervistato Della parte In diretta Anche sui social Dove dobbiamo andare A salutare Fulvia Grazie anche così A Fulvia Raccontateci un po' Che automobilista Siete Buona Serata anche A Daniele Lui invece Sempre in viaggio Un po' dice Come Davide Prima E lui però È molto attento Una delle cose Che a lui Fa compagnia È la musica Ecco La musica È la parte A me piace Durante i lunghi viaggi Più che la musica Le stazioni dove parlano Le radio dove si parla Perché mi fa compagnia Io non so Siamo amici E te Rita Su Facebook Certo Siamo amici Infatti ogni tanto Vedete E ti clicco mi piace Quando vedo quei chiacchiari E ho detto Mamma mia che logorroico Sempre lì che parla Parla Sto scherzando No però Volevo chiederti Allora io lo faccio un po' Uno perché mi piace Però io la vivo La macchina E la vivo anche con Con gli altri Con coloro che mi seguono Cuni dicono Sbagliando Però io invece Mi giustifico Dicendo Come se io avessi Una compagna di fianco E stessi facendo un viaggio E allora Ho lì Il telefono Che tanto è lì Non mi dà fastidio Ce l'ho di fronte Non è che lo vado a guardare Però ce l'ho Ce l'ho di fronte Comodo E allora chiacchiero È sbagliato No 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 L'importante è che tu riesca Ad organizzare Tutte queste risorse Nel modo adeguato Pensare anche Chi sta facendo altro Magari sulla strada No 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 Perché sicuramente È molto impegnativo Dover fare tutte queste cose Parlare Voi quando siete in macchina E avete qualcuno accanto Parlate Oppure state in silenzio Sì 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 È la stessa identica cosa Sto facendo io Sì no ma il discorso Del guardare il telefono Dicevo Diventa più È come guardare la strada Perché non è che Io ho il telefono lì così È lì È lì E come guardo adesso La telecamera Riesco a vedere Che cosa sta avvenendo E intanto parli Con il pubblico Che ti segue Però sto guardando La strada Sto guardando La strada Non sai stare da solo Vladi Sì Ah ok Questa necessità Di avere compaginanza Analisi in diretta Del nostro Vladimir Italini Quando è in auto No invece Perché di auto Parliamo Però probabilmente Come messaggio Per dire Tra poco Io sarò in televisione Tra poco Sarò in radio Io sto usando In altri contesti No Certo No 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 Ovvio Io vorrei toccare un altro argomento C'è Maurizio Anche lui piace guidare Scrive Grazie Maurizio E ci fai complimenti Grazie 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 Maurizio Un altro argomento Con la dottoressa Caggeggi C'è chi manifesto Sfoga La propria rabbia Alla guida Esiste Perché eri Perché lo fai Davide Mi è capitato Venendo qui prima Perché con la pioggia Purtroppo Tendono tutti ad essere Un pochino Un pochino Imbranati La guida E allora Io sono uno che si altera Con grande facilità Però c'è una motivazione Ho letto addirittura Confermami se è vero Dottoressa Ho letto di piani Terapeutici Mirati proprio Alla riduzione Della rabbia Ma legati All'automobile Quindi alla guida Sì 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 Però il punto è sempre Il discorso di lavorare Sul come quella persona Vive la rabbia Perché la rabbia È comunque un sentimento normale Allora se noi ci arrabbiamo Di fronte a una situazione Di frustrazione È un atteggiamento sano È ovvio che ci sono Livelli e livelli Di come la manifesti È normale Che tu ti arrabbi Di fronte a queste situazioni Però quando diventa eccessiva E diventa nociva Per te E anche per gli altri È ovvio che bisogna intervenire E andare a capire Quindi qual è la causa Degli incapacità Di riuscire a gestire Momenti così stressanti Perché poi Come diceva lui prima È ovvio che in una società Come questa Stressante Dove il traffico Fa da padrone Ma ci sta Che una persona Si alteri A un certo punto Dici ma insomma Caspitina E ti arrabbi un attimo Però un discorso È se questa è una situazione Legata al momento Però se è reiterata Con situazioni amplificate Sicuramente bisognerà Pensare a un intervento mirato Spesso e volentieri Ci sono situazioni Che si verificano sempre Persone Autistiche Vanno lentissimi Con una coda infinita dietro E non si rendono conto Di stare creando Un disagio Probabilmente un disagio Ma non a una o due o tre persone Diverse Probabilmente quello sta Rispettando le regole Ma a volte Il cartello che ha davanti A volte A volte no Perché Capisco se Allora c'è il limite Dei 50 Vai ai 50 Allora ci sta Ma se sei su una statale A scorrimento veloce Con i 90 E tu fai i 40 Con 7-8 macchine dietro Allora secondo me Oltre a diventare un disagio Diventi anche un pericolo Un pericolo Sì ma quello è un problema Di chi vive fuori città Chi vive nel paesino di provincia Chi vive le provinciali Le stradine di campagna Non lo so Insomma A volte capita anche Esattamente il contrario Chi si sente molto sicuro E conosce bene una zona Appunto Una provinciale Le strade di campagna Vanno addirittura Molto forte Perché si sentono padroni Della zona Della strada Che conoscono bene E molto spesso Purtroppo Dobbiamo salutare Momi che ci fa i complimenti Grazie Saluto anche la dottoressa Rita Caggeggi Grazie Ciao Momi C'è Erika invece che scrive Io smanio Ad avere la macchina rosa Tutti mi prendono in giro E questa cosa mi blocca La prendo o non la prendo Questo è il messaggio di Erika Ma prendila Perché non deve prenderla Si sente rappresentata Si però vive nel giudizio degli altri E lo so Però quello è un problema Che deve risolvere diversamente Uno non può pensare al giudizio degli altri Se se la sente Se si sente rappresentata Da quel colore È giusto che lei se la compri Cioè Ecco La possibilità di riuscire a fare una scelta Al di là di quello che è il giudizio degli altri Quindi è quello il problema No se mi compro o non mi compro la macchina rosa Ecco però uno si fa un po' condizionare Erika si chiama Erika Erika ti piace la macchina rosa? Compratela Comprati la macchina rosa Ah c'è appunto Bisogna essere se stessi Allora Vediamo un po' se Erika Poi ha voglia di parlare con noi Casomai la contattiamo Insomma Bisogna essere se stessi Però molte volte ci si fa condizionare dagli altri Ma insomma Su un aspetto così Se uno è abbastanza strutturato Diventa una macchina apparecente La macchina rosa ti notano tutti Come una macchina gialla Come una macchina gialla Ma una macchina gialla per dieci anni E anche Clara aveva la smart gialla Esatto E quella Sai benissimo che non passavi inosservato Quella ho trovato E quella Ma va bene Ma va bene Ho acquistato Non ho proprio scelta Però voglio dire Se ti senti Comprati la macchina rosa Guarda c'è un altro amico Sì Che ha qualcosa da raccontare Ecco proprio pensando alla parte psicologica Che tu hai incontrato? Sì Ok andiamo Chiedo ancora una volta La dottoressa Rita Kageji Di fare attenzione Ed ascoltare Ok Sentiamo Chi automobilista sei? Sì Sono appassionato di Alfa io Ho avuto due Alfa Una 147 e una Giulietta E quindi mi piacciono molto le macchine italiane E quindi la prossima macchina Vorrei un'altra Alfa Come è nata questa passione per l'Alfa? L'Alfa Una volta che entri sull'Alfa Penso che la passione entra nel cuore Quindi Sono entrato nella prima volta nel 147 Dopo quattro anni Ho visto la Giulietta Mi sono innamorato della Giulietta E adesso mi sono innamorato della Stelvio Ma È un po' Un po' più cara Quindi bisogna Hai un'Alfa? Sì sì Una Giulietta Sì 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 E la tua Giulietta Insomma L'hai battezzata per esempio Hai dato un nome alla tua macchina? Giulia si chiama Si chiama Giulia? Giulia Sì Giulia Tu parli con Giulia ogni tanto Ti capita di Parlare no proprio Però la tratto bene Dunque lavarla ogni tre settimane La vado a lavare La faccio lavare non sotto i rulli Perché si rovina Non è A mano È vero che si rovina sotto i rulli? Sì Poi dicono no Perché tanto le spazzole sono Si rovina secondo te? Dicono che sono così Però secondo me Il movimento veloce delle spazzole Può rovinare la macchina Sì sì Secondo me si rovina Giulia ne soffrirebbe? O te ne soffriresti? Tutte e due penso Perché se la vedo graffiata Mi darebbe fastidio Quindi la faccio andare a lavare a mano O la lavo io O la porto a lavare esclusivamente a mano E tu all'interno Insomma ci mangi Ci vivi un pochettino Ma la vivi la macchina oppure no? No 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 Non anch'io Non si mangi in macchina Non si fuma Infatti c'è il portacenere nuovo Non bisogna accendersi le sigarette Con l'accendisigare Tassativamente non si accendono le sigarette E a volte anche la mia ragazza prova a truccarsi E io gli dico No no Fermiamaci perché prima che fai qualcosa Ma anche il trucco? Anche il trucco Perché comunque Anche a livello di sicurezza Freno, non freno Comunque è pericoloso Però comunque Li cade qualcosa Sincero? Pensi alla sicurezza Oppure al fatto che ti può sporcare la macchina? No no Dai la sicurezza Sicuro? Sì sì sicuro Sicuro E tu invece come automobilista come sei? Quando sei alla guida Sei uno tranquillo Sei uno Tranquillo con le altre persone sì Però sono un po' spericolato In senso andare Sono un po' Questo significa che non rispetti No le rispetto però a volte in autostrada Magari ho il piede un po' più pesante A volte vado un po' più veloce del solito Capita ogni tanto di incavolarti Mentre sei alla guida Per quello davanti Perché va troppo lento Sì però poi Magari lo sorpasso Vedo che un anziano Ci ripenso E dico La prossima volta Vediamo un attimo Prima di suonare Di fare certe cose È brutto Suonare o insultarlo Non è adeguato Diciamo Da cosa nasce tutto questo attaccamento a un'auto? Ma io Cioè l'auto è Mi sono perso Che cos'è l'auto? Insomma un po' una fidanzata Costa cara Allora ci devo tenere Sì costa cara Infatti ci devo tenere Ho un garage La metto sempre in garage Non la lascio fuori Perché comunque O quando vengo qua a lavoro Cerco sempre dei posti Dove quando gli altri aprono la portiera Non me la toccano Perché mi dà fastidio Che loro salgono Non hanno rispetto Quindi mi toccano la macchina Tu sei così fortunato? Sì Aspetta Sei uno di quelli Che quando cerca gira Per cercare il posteggio Dove trovaro largo il parcheggio Se è stretto Faccio di nuovo il giro Infatti la mia ragazza Dico no ma è impossibile Dice la prossima volta Andiamo con la mia Perché lei ha una 600 piccolina Dice la prossima volta Andiamo con la mia Perché così non si può Andiamo in centro Bisogna cercarlo giusto il posto È difficile trovarlo Infatti andiamo sempre Sotto il parcheggio Il parcheggio a pagamento E lì Vado a parcheggiarla lì Ma non c'è mai stato il momento In cui lei ti ha detto Ma basta Non ti sopporto più Sì c'è stato Infatti Quando andiamo in centro Alguien andare con la sua E ho detto no andiamo con la 600 Perché Perché sono un casino dopo E ho detto va bene Andiamo con la tua macchina Però sono simpatici Intanto sono simpatici C'è questa parte Intanto tu Proprio chiedi tutto E di chiedi Se poi Alleni E per riuscire a capire L'automobilista Perché altrimenti Torci l'oro Di tutti Però non me l'avrebbero detto Altrimenti sarebbero stati Un po' Un po' In silenzio Che dire Che comunque L'auto È un qualcosa Che ci rappresenta Lui dice Costa molto Quindi me ne devo Prendere cura Però c'è la persona Che è interessata A investire molto Spendere i suoi soldi Su una macchina C'è che invece Dice ma cosa Me ne importa Della macchina Io preferisco Fare un investimento Su un vestito Su un qualcos'altro Quindi se lo fai lì È perché c'è una motivazione Quindi è proprio L'esempio di Umanizzazione Dell'automobile No Ed ha un nome di donna La chiamata Giulia Quindi la cura La lucida La tiene al caldo È una sorta di Idealizzazione Del femminile Quindi la donna ideale Perché comunque La macchina Fa quello che voglio io Magari la moglie no Poi non parla E quindi c'è una specie Esatto Non dice nulla Non disturba È una compensazione Le macchine di oggi parla Sì ma le fai parlare tu Esatto Le fai parlare tu Il controllo Dove abito io Che è Sant'Ena In provincia di Torino Ci sono degli automobilisti Speciali Ecco nelle vie interne Dove ci sono Dove abitano Dei bambini Vanno come dei pazzi È quello che si diceva prima Molto spesso Gli automobilisti Chi conosce Se mai Le strade di campagna Eccetera Le sente Così C'è chi che va con i pazzi Bambini o gli automobilisti? E l'automobilista Volevo dire una cosa Rispetto al telespettatore All'amico che ha incontrato E che ha detto a un certo punto Anche la mia fidanzata Non si può truccare Perché anzi ci fermiamo Perché semmai potrebbe sporcare In verità Truccarsi in auto È pericoloso Perché noi che usiamo Le matite per gli occhi Un mascara Una frenata Potremmo veramente Farci del male Ma tanto male Quindi al di là Di sporcare la vettura È pericoloso Proprio per Ma noi maschietti Non vivendo questo Non lo sappiamo Anzi Molte volte giochiamo Frenando apposta È pericolosissimo Vladi È pericolosissimo Se sei quasi fermo A semaforo No Un conto se sei fermo Se sei quasi fermo Te la stai Ta 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 Lo faccio No ma è dispettoso Anche Anche tu Anche tu Sei dispettoso anche tu Mentre la tua fidanzata Si trucca No ma Tendenzialmente Quando arrivi al semaforo Quasi una cosa Che viene istintiva A schiacciare il pedale Del freno E dare colpettini così Ma quando sei da solo No no Quando sono con qualcuno E per far vedere La propria virilità Ma no Ma che cosa c'è Analisi immediata Questo mi piace Ma che cosa c'entra La virilità Con il fatto che sto Solamente Insomma frenando Sono io al comando Ti faccio vedere C'è un certo punto Anche il potere Di farti prendere Il corpo di frusta Eventualmente Scusami tanto Non vai a pensare A voler far del male Se vogliamo amplificare Stiamo giocando Quando siamo al semaforo Sto rallentando Sto rispettando La distanza di sicurezza Perché ovviamente Rallentando E arrivando Quasi È vero È vero Cosa sento Da qui La distanza di sicurezza La distanza di sicurezza Rispettata da Vladi La faccio Sì È vero Ma è impossibile In città No io invece la faccio Allora io non sopporto Coloro che Quando si viaggia Stanno attaccato A te pochissimi centimetri E anche questo È molto pericoloso È una cosa che a me Veramente infastidisce molto Anche a me Ecco Però molti lo fanno Sì sì La classica personalità invadente Quello che non rispetta Lo spazio altrui E certo Il discorso del rispetto Dello spazio altrui Anche quello Se sei abituato A rispettare lo spazio altrui Non hai difficoltà Neanche a mantenerti Un attimino indietro Un po' come quando Ti avvicini alle persone Noi sappiamo che La prossemica studia Un po' la vicinanza Non nelle relazioni Ci sono relazioni e relazioni In cui tu ti puoi avvicinare O allontanare maggiormente Pensa solo alla striscia Che ti mettono negli uffici Che ti dicono Non andare oltre O il medico Che ti piazza le sedie Perché a volte i pazienti Ti si sdraiano sulla scrivania C'è una distanza Che le persone Devono imparare A mantenere nelle relazioni E anche comunque Guidare è una relazione Con la macchina Con il conducente Che hai davanti Ed esprime la tua personalità Il tuo modo di essere Spesso la distanza di sicurezza Anzi quasi sempre La tengo Però quando c'è qualcuno Che come dicevo prima Ostruisce in maniera eccessiva La strada Tendo a fargli capire Che forse è il caso Di spostarsi alla Ragazzi quando arriviamo Un semaforo Come fai A far capire Che si deve spostare Ti metti tanto vicino Vado molto vicino Sei uno di quelli Che a me irrita tanto E io vorrei inchiodare E mi faccio vedere Dallo specchietto Che lui guarda Mi vede Capisce E si sposta Se mi vede Poi c'è quello Che magari mi vede E mi insulta Mi è capitato Di recente E sei contento E sei contento Però si è spostato Però è colpa tua Si può viaggiare Così apposta Bisogna Esatto Bisogna spostarsi Però da parte tua Ovviamente è un atteggiamento Sbagliato Ma sicuramente è un atteggiamento Creato Magari dallo stress del momento Magari sei in ritardo Magari sei lì che ti stai un po' Come dire Rompendo le scatole Perché questo va veramente lento Però è giusto Secondo me Anche far capire Se anche Vuoi educare l'automobilista Voglio educare l'automobilista Forse per me li educarei tutti Ma è il linguaggio del corpo on the ride È quello Vocalist educatore No va bene Va bene Insomma Però vivendo tanto Io per esempio Una delle cose che Il mattino la vivo molto di più Invece la sera Quando torno a casa Sono rilassato Può accadere quello che vuoi Non è più Non mi interessa nulla Invece al mattino L'inizio di tutto Quindi la preoccupazione Di arrivare in ritardo Il semaforo Quello davanti Quello lentissimo Il camion Dell'Amiat Che ti trovi davanti Proprio nel momento In cui tu chiedi È sempre così Il carretto di paglia Cosa? Il carretto con la paglia Quello non mi capita A me sì A me sì Quello non mi capita In tangenziale Corso Reggina Per chi ci segue da Torino Non mi capita Grazie Monica Grazie Franco Grazie Luigina Dobbiamo salutare C'è anche Frankie Che dobbiamo salutare C'è Federico C'è Entoni C'è Teresa Grazie a tutti quanti gli amici Che sono lì Che ci stanno seguendo Grazie Mario Grazie Ryan E anche a Carmela E grazie anche a Shirley Grazie veramente Grazie a tutti i nostri amici E trappo salutiamo anche il nostro pubblico Perché il tempo A nostra disposizione è terminato Manca praticamente Un minuto Alla fine di questa puntata Di Full Option All'Automobilista in diretto Ovviamente ci ritroveremo La prossima settimana Sempre qui Sempre alla stessa ora Sempre su Motori TV Canale 89 Noi ringraziamo La dottoressa Rita Caggeggi Psicologa Psicoterapeuta Grazie a voi È stato un piacere Che questa settimana Si è occupata Della psicologia Dell'automobilista Insomma In parte abbiamo anche Come dire Un po' giocato No? Ma beh certo Ovvio Uno deve prendere le cose Con leggerezza E ci mancherebbe E ringraziamo Davide Visconti Grazie a voi Per essere stato con noi Per aver condiviso Anche Esatto Il suo modo di guidare Il suo modo di essere Da non seguire Abbiamo capito Che non va seguito Abbiamo capito Che non va seguito Grazie anche a Clara Vercelli E a Vladimir Otellini Alla prossima settimana Alla prossima No perché quelli Che ti vengono a parlare Così invadono Vero? Scusatemi Non lo faccio più Alla prossima settimana Alla prossima settimana Alla prossima settimana